Benvenuti a tutti, cari spettatori. Prima di iniziare il video, vi invitiamo a premere il tasto iscriviti e attivare le notifiche per essere sempre aggiornati sulle ultime notizie. E se vi piace il contenuto, non dimenticate di lasciare un mi piace. Bene, ora passiamo alla notizia di oggi, che è piuttosto triste e toccante. Stiamo parlando di Nikki Newman, una donna che ha perso la sua battaglia contro il cancro a soli 35 anni. Nikki era un'amministratrice per una società finanziaria e una personalità molto seguita sui social media. Con circa 300.000 follower, Nikki ha sempre condiviso parti significative della sua vita online, inclusa la sua lotta contro il cancro. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota da suo marito, Alex. E qui sta il dettaglio ancora più commovente. Alex ha condiviso un messaggio e una foto che erano stati concordati con Nikki prima della sua morte. Le parole che ha condiviso non erano solo un addio, ma un messaggio di speranza e resistenza direttamente da Nikki. Lei scrisse, «Se stai leggendo questo, significa che sono morta. Tuttavia, sono sopravvissuta per cinque anni e mezzo. Non male per un cancro al seno allo stadio 4». Nikki aveva affrontato il cancro con una determinazione incredibile. Combatte con tutte le sue forze, ma alla fine, purtroppo, la malattia si è rivelata più forte di lei. Ed è in questo contesto che le sue parole assumono un significato ancora più profondo. Lei ha lottato fino all'ultimo respiro, fino a quando non poteva più. E anche se il cancro alla fine ha avuto la meglio, nessuno potrà mai dire che non abbia combattuto fino alla fine. Ora, passando ad altre reazioni, dopo l'annuncio della sua scomparsa, diverse celebrità hanno reso omaggio a Nikki. Tra queste, anche figure come Amy Downed e Stacy Solomon hanno condiviso i loro sentimenti e i loro pensieri su questa donna straordinaria. E adesso, eccoci arrivati alla parte più critica di questa notizia. Nikki Newman aveva solo 35 anni. Aveva una vita davanti a sé, piena di sogni, progetti e ambizioni. Ma il destino le ha riservato una brutta sorpresa, una lotta contro un cancro al seno che alla fine la ha sconfitta. È una notizia sconvolgente e una realtà che ci fa riflettere sulla fragilità della vita. Ora, cari spettatori, vi lascio con questo pensiero e vi invito a condividere le vostre opinioni su questa tragica notizia. Vi prego di lasciare un commento sotto al video. È un momento per unire le nostre voci in un tributo a Nikki e a tutti coloro che combattono contro malattie terribili come il cancro. Grazie per aver seguito fino alla fine. A presto.